Come proteggere le piante grasse dalla pioggia? Scopriamolo subito! Ciao, benvenuta o benvenuto in questo nuovo video di Pianta Succulenta. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale ed attiva la campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei nostri prossimi video. Non dimenticare di lasciare un like ed un commento se hai domande o consigli. Grazie e buona visione! Come proteggere le piante grasse dalla pioggia? La pioggia è sicuramente un grande beneficio per tutti gli esseri viventi. L'acqua è sempre gradita, giusto? Ma come si comportano le nostre piante grasse? Sappiamo che hanno bisogno di acqua, ma non troppa. Così, oggi, ho preparato dei suggerimenti per aiutarti a prenderti cura delle tue piante grasse quando piove. L'acqua piovana è libera da cloro, e questo è qualcosa che le nostre piante grasse apprezzano molto rispetto all'acqua del rubinetto. In più, la pioggia pulisce a fondo le nostre piante, liberandole da sporco e detriti e aiutandole ad assorbire nutrienti e fare la fotosintesi. È importante conoscere il clima della zona in cui viviamo per capire quanto piove e quanto intensamente. Questa conoscenza ci aiuta a prepararci per la stagione delle piogge e proteggere le nostre piante. Se sei un principiante e non sei sicuro di cosa fare, presta molta attenzione. Ecco 5 consigli per prenderti cura delle tue piante grasse durante la pioggia. 1. Smetti di annaffiare. Se le tue piante grasse si trovano all'aperto e ricevono acqua piovana, il mio consiglio principale è di smettere di annaffiarle durante il periodo delle piogge. Avranno abbastanza acqua per rimanere idratate e non avranno bisogno di ulteriore umidità. 2. Usa vasi adatti. È molto importante che le tue piante grasse siano in vasi con buon drenaggio, specialmente se sono all'aperto. Questo permetterà all'acqua in eccesso di defluire e non accumularsi nel terreno. Vasi in creta o terracotta sono ottimi perché lasciano passare l'umidità. 3. Cambia il substrato. Se possibile, sarebbe un'ottima idea trasferire le tue piante in un substrato molto poroso e minerale. Questo tipo di substrato non trattiene l'umidità e favorisce il drenaggio. La pietra pomice, ad esempio, è un materiale molto poroso che consente un ottimo drenaggio. 4. Sposta le tue piante. Questo potrebbe essere un po' complicato se hai molte piante grasse, ma se riesci, sarebbe meglio spostarle in un posto riparato per evitarne il marciume. Puoi lasciare che si bagnino una volta alla settimana e poi metterle in un luogo asciutto. 5. Usa una rete per coprirle. Se non riesci a spostare le tue piante o se è troppo faticoso, un'altra opzione è quella di usare una rete da giardino per coprirle quando piove troppo. Queste reti, che possono essere di plastica o polietilene, sono leggere e non danneggeranno le tue piante. Ricorda, l'obiettivo principale è evitare il ristegno d'acqua o la saturazione di umidità. Spero che questi consigli ti siano utili per prenderti cura delle tue piante grasse durante la pioggia. Se questo video ti è piaciuto lasciaci un like e se hai qualcosa da dirci scrivilo pure nei commenti, ti risponderemo quanto prima. Se ancora non l'hai fatto premi il tasto iscriviti per iscriverti al nostro canale Pianta Succulenta e attiva la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicheremo un nuovo video.